Buongiorno a tutti, dunque l'idea di oggi, anche se non so se sarà pienamente fattibile, è quella di vedere insieme un tema d'esame completo, anche abbastanza recente, quindi proveremo a risolverlo tutto, non so se ci riusciremo, se vado troppo veloce fermatemi, al massimo non lo colleghiamo al controller, ma ci proviamo. Quindi un tema d'esame del 2019, abbastanza recente, che utilizzava questo database qui, Denver Crimes, un database molto semplice, se guardiamo la... controllo solo di aver fatto partire tutto, sì, una sola tabella in questo database, tabella che però conteneva molti dati. Quindi questo dataset riporta una serie di oltre 300.000 eventi criminosi tra il 2014 e il 2017 nella città di Denver. La tabella events, quindi ogni riga del database è un evento criminoso e ci sono una serie di attributi di questi eventi. Vabbè, c'è un ID, che è la chiave primaria, e poi vedremo quali utilizzeremo. C'è una tipologia, offense type ID, una categoria, una data, latitudine e longitudine, eccetera, eccetera. Vedremo quali andremo a utilizzare in questo esame. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo permettere all'utente innanzitutto di selezionare dal menu a tendina presente nell'interfaccia grafica una categoria di reato, tra quelli presenti nella colonna offense category ID, ed un mese estratto dalla data reported date, tra quelli sempre presenti nel database. Ok? Quindi una categoria di reato e il mese da selezionare nelle due tendine. alla pressione del bottone analisi quartieri si costruisca un grafo semplice, pesato e non orientato, quindi classico, l'abbiamo già fatto tante volte, i cui vertici corrispondano ai tipi di reato, colonna offense type ID. Ok? C'è una differenza tra la categoria e la tipologia. una categoria in particolare può avere più di un tipo di reato. Quindi i vertici sono i tipi di reato che corrispondono ai criteri selezionati, ovviamente, quindi i tipi di reato all'interno di quella categoria selezionata e per quegli eventi successi in un determinato mese. Quindi si ignorino tutti gli eventi che non appartengono alla categoria né al mese specificato. Questi sono i vertici. Vedete anche in questo caso c'è un filtro anche sui vertici, come l'ultimo esercizio che abbiamo fatto insieme. Non aggiungiamo tutti gli eventi al grafo, ma solo alcuni. Gli archi che collegano ciascuna coppia di vertici, quindi di nuovo coppie di vertici sono dei tipi di reato diversi tra loro. Quindi ho detto male prima, i vertici non sono degli eventi, sono dei tipi di reato. Questi archi hanno un peso pari al numero di quartieri distinti e i quartieri vengono identificati nella tabella da questo campo, Neighborhood ID, in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato. Qualora tale numero sia pari a zero, l'arco non deve essere inserito. E' chiara la richiesta, quindi ho due tipi di reato, una coppia di tipi di reato, che sono due vertici. Li colleghiamo insieme e il peso sarà il numero di volte che questi due tipi di reato sono successi in quartieri distinti. Quindi se il reato A e il reato B sono avvenuti sia nel quartiere, che ne so, Mirafiori che nel quartiere Crocetta, ok? Il quartiere Crocetta e il quartiere Mirafiori hanno visto nello stesso mese sia un reato A che il reato B, allora ci sarà un arco e il peso dell'arco sarà due, ok? Domande su questo? Poi vedremo che risolvendolo si chiariranno gli eventuali dubbi. E poi il punto D, che risolveremo poi in seguito, si visualizza l'elenco di tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio presente nel grafo. Per ogni arco si visualizzano i due tipi di reato, i due vertici e il peso stesso, ma questo lo vediamo in seguito. Punto 2, vediamo anche in seguito a questo, sarà ricorsivo. Va bene, dopo questa introduzione direi che possiamo aprirci il progetto base e iniziare a impostare il nostro codice. Al solito partiamo dal modello, iniziamo a strutturarlo un pochino. Avremo bisogno del nostro solito grafo, lo definiamo qui, private graph. Ecco, ragioniamo subito i vertici, che cosa sono? Abbiamo detto non sono degli eventi, che sarebbero gli oggetti che modellano le righe della tabella, ma sono dei tipi di reato. Andiamo a vedere, la colonna OffenseTypeID è una colonna Varchar, quindi in questo caso la tipologia dei vertici era molto semplice. Abbiamo un grafo dove i vertici sono delle stringhe. Quindi questo ci fa capire anche che probabilmente non avremo bisogno di costruirci una IdentityMap, anche perché non saprei come farla, essendo delle stringhe semplici, non abbiamo la corrispondenza tra un ID e un oggetto di una classe nostra. E quindi tutto di guadagnato. Quindi i vertici saranno stringhe e i nostri archi saranno al solito default weighted edge. Lo chiamiamo grafo e per il momento non lo creiamo ancora. Importiamo un po' di cose e ci siamo. Dicevamo della mappa ne possiamo fare a meno, quello che ci serve è anche un riferimento come sempre al DAO, che in questo progetto base si chiama Events DAO. Va bene, Private Events DAO. Importiamo import. Ok, come al solito ci sono cose che ha senso creare nel costruttore del modello, in questo caso direi il DAO. Quindi dico che DAO è uguale a New Events DAO. Mentre il grafo lo creiamo come sempre in un metodo void, crea grafo. Questo metodo riceverà dei parametri, ma per il momento lasciamo lì, iniziamo a creare questo nostro grafo. Diciamo che il grafo è uguale a New Simple Weighted Graph. Ok. E tra le parentesi tonde la classe di default weighted edge, punto class. Importiamo Simple Weighted Graph. Adesso la creazione del grafo al solito si compone di due pezzi, aggiunta vertici e aggiunta archi. Allora, i vertici sono tutte le tipologie di reato all'interno di una categoria scelta successi in un determinato mese, indipendentemente dall'anno e dal giorno. Ok? Vogliamo gli eventi di maggio. Maggio 2013, maggio 2014, maggio non importa, maggio. Quindi riceveremo due parametri direi. La categoria è il mese. Andiamo a vedere che cos'è la categoria nel nostro database. È di nuovo una stringa. Va bene. Quindi riceveremo la categoria. Il mese. Come lo modelliamo il mese? Cerchiamo sempre di ragionare nel modo più semplice possibile. Il modo più semplice possibile che mi viene in mente è un intero, da 1 a 12, che poi potremo settare nella query attraverso la funzione di MySQL month. Quindi attraverso la funzione di MySQL month in una query possiamo andare poi a inserire il mese di quella data. Quindi questa funzione prende una data, che nel nostro caso sarà reported date, e ci restituisce il mese. Ok? In MySQL. Noi se la poniamo uguale a un parametro, un numero che ci dice l'utente, possiamo andarlo a fissare nella query. E quindi direi che è la soluzione più facile da avere questo mese modellato come intero. Va bene, facciamola un attimo su SQL Pro. O ID, che dire si voglia. Ok. Speriamo di avere già il database. Sì, c'è ancora. Denver Crimes. Ok. Allora, è abbastanza facile. Select. Che cosa selezioniamo? Le categorie. Andiamo a vedere bene come si chiama il campo. Office Category ID. From, tabella, c'è solo lei. Ok. Dove abbiamo due vincoli. No, scusate, non è la categoria, ma il tipo. La categoria è quella che fissiamo noi, quella che ci dice l'utente. Quindi all'interno di una categoria ci sono più tipi di reato che saranno i nostri vertici. Quindi where offense category ID uguale punto interrogativo, dopo ne andrò a copiare una per fare una prova. And, ecco qui quello che dicevo prima, per fissare il mese possiamo usare la funzione month di MySQL di reported date uguale di nuovo il punto interrogativo. E lì ci andrò a mettere il numerino che l'utente selezionerà da 1 a 12. Secondo voi basta? Facciamo una prova. Vado a copiarmi in una categoria. Sì, ho già sentito quello che manca, ma facciamo una prova. Supponiamo incidente stradale. E poi supponiamo mese e due. Lancio. E vedete, ho una serie di offense type ID che estrago dalla tabella, ma come diceva qualcuno di voi, giustamente, visto che in una categoria ci può essere più di un tipo di reato, vedete che abbiamo dei duplicati. E va bene, li taglio via con una distinct. Voglio una volta sola perché nel grafo ci sarà una volta sola ogni tipo. Rilanciamo. Ok. Quindi per questa determinata categoria qui, il mese di febbraio, avremo un grafo molto piccolo composto da travertici. Va bene. Ok, mi copio la query. E torno di là, in Eclipse. Quindi direi che nel nostro DAO, vediamo che il DAO contiene un metodo che ci restituisce tutti gli eventi del database, in questo caso non ci serve perché appunto il grafo non contiene eventi ma solo stringhe, e quindi avremo bisogno qua sotto di farci un metodo che ci restituisca i vertici, direi una lista di stringhe, chiamiamolo get vertici, a cui passiamo i due parametri ovviamente, string categoria e int mese. Non abbiamo mappe e va bene così. Allora, la mia query SQL la vado a incollare tra apici e la sistemo come sempre. Cancello gli slashen, lascio lo spazio e metto i punti interrogativi al posto della categoria e del mese. Ok. Poi avrò la mia lista con cui ritornerò i risultati, quindi una lista di stringhe, vertici, uguale new array list, ad esempio. A questo punto avremo il nostro try catch. Catch. Catturiamo SQL exception. Direi l'unica che può capitare in questo caso. Se per caso capita un'eccezione, magari stampiamo lo stack dell'errore, così capiamo qual è il problema e ritorniamo, direi, nullo. Non siamo riusciti a recuperare nulla. Altrimenti, fuori dal try catch, se non ci andiamo dentro, ritorneremo la nostra lista di vertici. Ok, adesso andiamo a mettere il codice vero e proprio. Copio qualcosina da sopra per semplificarmi un po' la vita. La connection, dobbiamo sempre recuperarla. Il prepare statement, ce lo dobbiamo far preparare. Copio queste due righe e le inserisco qua nel try catch. Abbiamo due parametri e quindi dico st.set, il primo parametro è una stringa. Posizione 1, la nostra categoria. Il secondo parametro invece è un numero, il mese della data. E quindi dico st.setint, posizione 2, il mese. A questo punto ho impostato i parametri, posso eseguire la query. Di nuovo copio da sopra questa riga del result set. Quindi metto il mio risultato in un result set e poi scorro i miei risultati con un ciclo while res.next finché c'è un valore, una riga, la prendo e vado avanti. La prendo aggiungendola alla mia lista di vertici. Vertici.add res. È una stringa, quindi get string, non l'ho rinominata, direi offense type id. E ci siamo. Ok? A questo punto possiamo usare questo metodo qua nel modello per raggiungere i vertici. Grafo, no scusate, graphs, più comodo, punto, add all vertices, rispecifichiamo il grafo e richiamiamo il metodo che abbiamo appena fatto, quindi dao.getVertici a cui passiamo la categoria è il mese. Ok? E fin qui tutto bene. Adesso aggiungiamo gli archi. Quindi, andiamo a rivedere un attimo che cosa sono questi archi. Dati due tipi di reato. Il peso dell'arco eventuale è pari al numero di quartieri distinti in cui si siano verificati entrambi i tipi di reato. Se questo non è mai successo, l'arco non va inserito. Ok, andiamo su SQL Pro, cancelliamo. Allora, qui abbiamo una sola tabella. Quindi, non abbiamo join tra tabelle diverse. Se vogliamo sfruttare il nostro solito approccio, in questo caso possiamo fare la join della tabella con se stessa. Se vogliamo farci dare, come al solito, tutte le adiacenze in un colpo solo dal database. Giusto? Quindi, nella from inizio già a inserire events e 1, events e 2. Accoppio tutti i possibili eventi, in realtà non gli eventi ma le tipologie di reato che sono i nostri vertici, e conto il numero di quartieri distinti in cui questi due eventi sono successi. Quindi, innanzitutto che cosa seleziono? Non l'evento totale ma il mio vertice che sono e1.offense typeid e 2.offense typeid poi ci sarà un conteggio ma ce ne preoccupiamo dopo iniziamo con le clausole di where li accoppio e posso imporre devo imporre ovviamente che i due typeid siano diversi ovviamente voglio le coppie diverse e quindi dico where e1.offense typeid qui di nuovo ho due scelte o metto il diverso e poi gestisco lato codice il fatto che ci sia la coppia AB e la coppia BA oppure metto maggiore funziona anche con le string ovviamente sfrutterà l'ordine alfabetico e2.offense typeid in questo modo col maggiore tagliamo via le coppie invertite che non ci servono in questo caso poi devo contare anzi no partiamo facciamo un passo indietro ovviamente queste questi archi andranno messi tra vertici che ci sono vertici presenti nel grafo giusto? e allora anche qui è bene secondo me riportare gli stessi filtri che c'erano nell'acquiri per i vertici altrimenti evitiamo di fare questo controllo poi lato codice perché altrimenti recuperiamo delle coppie dei vertici che non sono presenti nel grafo e o ci ricordiamo di controllare questa cosa lato codice oppure andiamo incontro a delle eccezioni perché proveremo ad aggiungere degli archi tra vertici che non esistono nel grafo e quindi è sempre bene quando abbiamo dei vincoli dei filtri sui vertici riportare gli stessi filtri anche nell'acquiri degli archi e quindi dico and offense category id ecco qui dobbiamo imporlo ovviamente per tutte e due le tabelle perché abbiamo fatto questa join della tabella con se stessa quindi posso dire che e1.offense.category.id è uguale a punto interrogativo poi lo andiamo a copiare and potremmo fare la stessa cosa quindi dire e2.offense.category.id è uguale a punto interrogativo oppure per non dover fare tante set di parametri possiamo imporlo a una tabella e poi dire che e1.offense.category.id è uguale a e2.offense.category.id così lo impostiamo una sola volta per e1 e poi imponiamo che e1 sia uguale a e2 facciamo la stessa cosa per il mese and month di e1.reporteddate uguale punto interrogativo e poi possiamo imporre che il mese di e1.reporteddate sia uguale al mese di e2.reporteddate dimmi non ho capito scusami non sarebbe stato più comodo mettere una width con la width in e2 quindi per utilizzare i width di e2 risultati quindi recuperare tutte le coppie con il relativo peso e poi scorrevo questa lista di coppie e mano a mano andavo ad inserire anche i vertici che sono ovviamente presenti nella query però così era più leggibile prendere prima i vertici e poi gli archi ok adesso dobbiamo contare il numero di volte che questi due cioè il numero di quartieri distinti in cui sono capitati questi due offence type i pd no? allora cosa dobbiamo fare? dovremmo imporre che il quartiere sia lo stesso e contare quante volte questo succede giusto? quindi impongo che e1 punto ne vediamo se mi da il suggerimento sì neighborhood id uguale a e2 punto neighborhood id e conto quante volte questa cosa succede cioè avere due tipologie diverse successe nello stesso quartiere devo contare quante volte sarà un count count asterisco no direi di no dobbiamo contare il numero di volte il numero di quartieri distinti ce lo dice il testo e quindi posso dire count e1 punto neighborhood id mi basta dire e1 punto neighborhood id perché intanto gli ho posti uguali e quindi mi basta specificare una delle due tabelle non basta dobbiamo anche dire il numero di quartieri distinti e quindi ci serve anche questa distinct all'interno dell'account ora se riesco vi faccio vedere perché questa distinct è necessaria group by abbiamo un account i due tipi di reato questa è la query vediamo perché è necessaria quella distinct che tra l'altro si poteva anche intuire dal testo cancello un attimo il count lasciando solo il neighborhood id e cancello anche la group by se lancio questa query ovviamente devo impostare i miei parametri quindi vado a prendermi di nuovo una categoria traffic accident è un mese ad esempio 2 lancio è di nuovo qua è un po' piccolo non so se riuscite a vedere però vedete che tra questi due queste due tipologie di reato che sono ve le leggo traffic accident hit and run e traffic accident sono due tipi di reato diverse abbiamo vedete lo stesso neighborhood id tre volte il quartiere a oraria qualunque quartiere questo sia quindi questo vuol dire che questi due tipologie queste due tipologie di reato sono successe tre volte nello stesso quartiere secondo i parametri selezionati ok questa cosa per noi conta una volta sola il quartiere distinto è capitato tre volte ok per noi conta uno il quartiere a oraria poi gli stessi due tipi di reato potranno essere successi n volte nel quartiere y e quel quartiere y conterà di nuovo uno sommo questi quartieri distinti quindi un buon modo per capire che cosa bisogna contare è quella di levare la funzione di aggregazione andare a vedere cosa ci restituisce la query e ragionare su questo risultato per vedere che cosa contare ok torno indietro domande su questa query è un po' lunga solamente perché abbiamo reimposto tutti i filtri dei vertici va bene la copio e torno di là aggiunta archi ci facciamo dare tutto la database ci serve la nostra solita classe adiacenza nel package model new class adiacenza i due vertici sono delle stringhe private string v1 private string v2 il peso è un conteggio e quindi sarà un intero giusto tasto destro source generate constructor using fields i tre campi e poi anche magari i getter i setter tasto destro source generate getter i setter di tutti e tre i valori ok vado nel dao e oltre al metodo getvertici prevedo un metodo getarchi public a questo punto ritornerò una lista di adiacenza getarchi anche qui come abbiamo già detto riceviamo i due parametri quello che l'utente seleziona dalle tendine e quindi una categoria di reato e un mese importiamo adiacenza string sql incollo la query che ho appena fatto e la sistemo leviamo questi appici lo slash n spazio slash n spazio slash n spazio ok ci sono già i punti interrogativi benissimo quello per il mese va bene qua levo gli apici e tolgo lo slash n la group by e poi il punto e virgola finale ok la mia lista con cui ritornerò i miei archi quindi adiacenza archi uguale new array list eccola qua e poi il try catch quindi try catch sql exception e se succede qualcosa stampo lo stack e ritorno nullo altrimenti ritorno i miei archi vedete ci sono cose molto meccaniche sempre praticamente sempre uguali quindi più fatti esercizi più dovreste diventare veloci quantomeno in questi in questi punti copio la connessione prepare statement al solito qui posso anche copiare le due set string set int perché sono uguali no questa impostazione dei filtri è uguale sia per la query dei vertici che per la query degli archi e quindi mi copio addirittura fino al result set intanto queste righe sono uguali e poi dico finché c'è una diacenza quindi finché res.next aggiungo la mia diacenza al mio grafo scusate alla mia lista di archi archi.add magari nella query ridefinisco i due vertici così da poterli recuperare in modo più semplice quindi as v1 as v2 e questo lo ridefinisco quest'account as peso così è più facile recuperare il tutto quindi archi.add new adiacenza di che cosa? del primo vertice res.getstring v1 ok secondo vertice res.getstring v2 e poi il peso res.getint peso e ci siamo e abbiamo anche gli archi vedete questo esame aveva una forma abbastanza standard quindi una query dove facciamo il join della tabella con se stessa tanti esami sono così occhio non tutti ok magari la query va fatta in un altro modo e questa cosa di fare il join con la tabella con se stessa non funziona dipende quindi bisogna stare attenti non focalizzarsi troppo su una tipologia di soluzioni di esami ma essere pronti a ragionare sul testo e capire che cosa bisogna fare ok ho i miei archi e li aggiungo in modo molto semplice direi for adiacenza a in dao punto get archi a cui passo la categoria e il mese e vabbè sono sicuro che i vertici nel grafo ci siano perché ho imposto gli stessi vincoli gli stessi filtri in tutte e due le query e quindi aggiungo direttamente il mio arco graphs punto add edge con vertici dis punto grafo il primo parametro il primo vertice a punto get v1 a punto get v2 virgola ancora a punto get peso sono anche sicuro di non avere le coppie inverse perché ho messo il maggiore nella query e quindi aggiungerò questi archi una sola volta quando serve le nostre solite due stampe system che poi bisognerebbe collegare al controller ma va bene vediamo se abbiamo tempo println grafo creato e poi println numero di vertici due punti più dis punto grafo punto vertex set punto size anche queste righe sono sempre uguali potete poi copiarvele anche durante l'esame da un progetto precedente system.out punto println numero di archi due punti più dis punto grafo punto edge set punto size anche qui consiglio durante l'esame cercate di secondo me seguire la metodologia che sto seguendo io per portare a termine l'esercizio durante questa lezione cioè prima di collegare il tutto al controller quindi fare il controllo dell'input prendere l'input farne il controllo stampare sull'area di testo cercate quantomeno di portare a termine il punto 1 magari facendo delle stampe nella console ok quindi io adesso prima di collegare questa roba qui al controller cerco di risolvere il punto 1D e stampo magari sulla console perché anche solo stampando sulla console i risultati corretti magari perdete un punto ma l'esame si passa e anche magari si corregge il secondo punto se lo fate quindi questo può essere una buona tattica credo sì 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 dovrebbe sovrascrivere l'arco sì però in questo modo siamo sicuri di non fare delle add inutili però se anche le faceste lui dovrebbe sovrascrivere l'arco quindi sì dimmi sì tutto quello che volete progetti vostri passati quindi il professore ve l'ha già detto lo faremo all'app quindi nella mezz'ora precedente all'inizio vero e proprio dell'esame avete l'opportunità di prendere una chiavetta caricare i vostri progetti sul pc poi potrete accedere a internet a github l'unica cosa vietata sono ovviamente le app i siti di messaggistica mail whatsapp eccetera ovviamente prego ok vediamo se funziona per provarlo in modo veloce all'interno del package model mi faccio una classe che chiamo test model che c'è già ok c'era già nel progetto base tutto di guadagnato con il main sfrutto questo main per provare al volo quello che ho fatto e quindi dico mi crea un'istanza del mio modello model model uguale new model e provo a fare un model punto crea grafo passandoci una categoria un mese che vado a recuperarmi dal dal db riprendiamoci magari la nostra traffic accident mi la vado a incollare qui è il nostro mese febbraio vediamo un po' se questo mi dà mi dà qualcosa tasto destro sulla classe run as java application ok eccezione vabbè è l'eccezione più facile quella che mi dice che non ho cambiato la password della db connect va bene vado in db connect e scrivo la mia password ok tasto destro no devo andare sul mio test model run as java application ok vedete i vertici sono tre come abbiamo visto prima per questa categoria è un grafo molto piccolo con tre archi sembra funzionare poi magari lo proviamo poi con delle categorie che abbiano più eventi direi però per adesso sembra funzionare va bene allora andiamo a vedere creato il grafo che cosa dobbiamo farci sopra nel punto 1d ripeto il punto 1d vi chiede sempre un qualcosa sul grafo un qualcosa che si recupera con poche righe di codice d'accordo quindi qui si vogliono visualizzare tutti gli archi il cui peso sia superiore al peso medio degli archi presenti nel grafo come facciamo qualcuno ha un'idea quantomeno del processo che potremmo seguire dimmi ok lui ha già in mente un'ottimizzazione in più cioè farlo già durante la creazione del grafo tenere traccia della somma dei pesi che andiamo ad aggiungere per poi già avere il la media il peso medio presente nel grafo e poi dovremo riscorrere tutti gli archi andando a filtrare solo quelli che hanno un peso maggiore del peso medio si può fare così oppure possiamo anche farlo tutto dopo facendo due passate sugli archi la prima passata per calcolarci il peso medio la seconda per filtrare via quelli che sono inferiori al peso medio va benissimo entrambe le soluzioni andiamo nel model facciamo tutto in un unico metodo affinché sia forse un po' più leggibile ma ripeto la sua è addirittura un'ottimizzazione quindi va bene evitiamo una passata in più allora il nostro model dovrà prevedere un metodo che ci ritorni che cosa una lista di archi il cui peso sia maggiore del peso medio e il testo ci dice cosa vogliamo stampare per ogni arco si visualizzano i due tipi di reato e il peso ovviamente noi in realtà una classe per recuperarci per modellare questa tipologia di informazione ce l'abbiamo già l'abbiamo appena creata è la classe adiacenza e possiamo sfruttarla anche per questo scopo e quindi direi che qui possiamo ritornare una lista di adiacenza chiamiamo questo metodo get archi maggiori peso medio abbiamo bisogno di parametri qui direi di no import list allora se facciamo tutto qui abbiamo bisogno di due passate sugli archi del grafo quindi come prima cosa scorro gli archi del grafo e calcolo il peso medio prima passata quindi mi definirò una variabile double peso tot uguale a 0 la definisco double perché so che i miei pesi sono interi ma quando mi faccio dare il peso dalla libreria jgraph t la libreria me la restituisce come un double ma va bene saranno dei double senza virgola adesso scorro che cosa tutti gli archi presenti nel database come faccio l'edge set l'edge set perfetto for edge e in dis punto grafo punto edge set per ogni arco si sarà un default weighted edge per ogni arco mi recupero il peso e lo sommo al peso tot peso tot più uguale dis punto grafo punto get edge weight a cui passo il mio arco quando ho sommato tutti i pesi di tutti gli archi per calcolarmi la media definisco double avg uguale peso tot sfratto la size dell'edge set dis punto grafo punto edge set punto size diviso così e con questo mi son calcolato il peso medio adesso riscorro tutti gli archi prendendo quelli maggiori di avg avrò bisogno di una lista per salvarmi questi questi archi e quindi me la creo qui list adiacenza result chiamatela come volete uguale new linked list fa lo stesso o array list visto che l'abbiamo già usata non l'avevamo usata qui ma va bene la importiamo il ciclo for rimane lo stesso quindi for me lo copio da qua sopra e vabbè qui dirò if il peso dell'arco che sto considerando è maggiore di avg me lo prendo altrimenti no e quindi this.grapho .get edge weight di e se questa roba qui è maggiore di avg prendo l'arco inserendolo nella lista result .add ok non prendo veramente direttamente l'arco ma mi creerò un'adiacenza a partire dall'arco e quindi dico new adiacenza in cui devo specificare primo vertice come faccio a recuperare il primo vertice dall'arco dis.grapho .get edge source di e quindi a partire dal grafo gli diamo l'arco chiedendo il nodo sorgente virgola fai a capo magari dis.grapho .get edge target e poi c'è la get edge weight che abbiamo già usato anche sopra dis.grapho .get edge weight mi dà un errore perché io nella mia adiacenza ho modellato il peso come un intero la get edge weight ce lo restituisce come un double e va bene facciamo un cast qui a intero è chiaro che voi durante l'esame potete accedere a qualunque cosa tra cui anche le slide la documentazione di jgraph.t eccetera eccetera quindi avete sempre l'opportunità di andare a vedere che metodo della libreria posso usare per fare una determinata cosa è chiaro però che se perdete mezz'ora a cercare un metodo poi diventa complicato quindi almeno i principali bisogna ricordarseli secondo me come faccio a recuperarmi gli archi come faccio a recuperarmi il nodo sorgente da un arco eccetera eccetera e questo facendo gli esercizi però mi sembra abbastanza facile ricordarsi come si fanno le cose principali alla fine di questa seconda passata return result ed è fatto vedete ci sono esercizi esami in cui si fa più uso della libreria jgraph.t quindi quando vi si chiede la componente connessa c'è direttamente il metodo della libreria che può ritornarvelo poi si può sempre visitare il grafo a mano però se c'è il metodo comodo è bene usarlo in questo caso era una richiesta un po' particolare quindi abbiamo appunto dovuto farci le cose a mano fare queste due passate del grafo però in realtà si risolve abbastanza velocemente con una decina di righe di codice massimo proviamo anche questo metodo sempre nel test model ho creato il grafo magari fatemi cambiare la categoria perché questa ha veramente poche tipologie di reato proviamo 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 ah ecco qua droga alcol secondo me ce ne sono tanti a Denver ok vediamo un attimo se ci da si abbiamo già più vertice più archi richiamiamo anche il nostro model punto get archi maggiori peso medio ci restituisce una stringa proviamo una lista di scusate una lista di adiacenze proviamo a stamparla brutalmente tanto per provare le cose vediamo ok qualcosa stampa ma stampa una schifezza possiamo risolvere magari andando a definire un to string per la classe adiacenza che non abbiamo fatto e quindi lui ci stampa questa cosa bruttissima va bene andiamo in adiacenza tasto destro source generate to string qui la to string la potete fare come meglio credete io la lascio così solo per provare mi interessa vedere il tutto ok vediamo una serie di archi con un determinato peso che sembra quantomeno almeno sempre maggiore di 6 direi volendo potremmo anche stampare anche solo qui il nostro peso medio che abbiamo calcolato così vediamo se gli archi che stampiamo sono effettivamente maggiori di questo peso medio system punto out punto print ln peso medio due punti più avg lancio il peso medio è 575 e in effetti mi sembra di avere tutti i archi con peso maggiore di 23 6 7 quindi sembra funzionare ok poi di nuovo sono tutte stampe temporane brutte il testo di solito non mi ricordo se nel 2019 lo facevamo già no non ancora il testo dell'esame vi fornirà degli screenshot da cui potete vedere esattamente cosa stampare quindi poi magari se avete tempo fate le stampe anche simili a quelle che sono riportate negli screenshot per il momento abbiamo fatto queste stampe temporanee per poter terminare l'esercizio e il punto 1 è fatto ripeto al netto del collegamento al controller domande come lo trovate facile difficile sareste riusciti a farlo cosa così velocemente no però l'ho fatto si abbastanza velocemente è vero però è però guardate è passata un'ora dovete arrivare a questa velocità più o meno se volete prendere il massimo dei voti ovviamente se volete prendere 21 vi vanno bene anche due ore per fare solo il punto 1 però non è sempre la scelta migliore per esperienza chi lascia stare il punto 2 si focalizza solo sul punto 1 poi basta sbagliare veramente poco per purtroppo non passare l'esame quindi riguardo al collegamento al controllo si ma l'esame è importante anche il controllo del controllo allora il vostro compagno chiede se all'esame riguardo al collegamento al controllo era importante anche il controllo degli errori dell'input direi di si direi di si ripeto se arrivate a questo punto qui a cui sono arrivato io in cui non c'è niente collegato al controller e quindi non ci sono neanche i controlli dell'input sicuramente non sarà 21 però almeno 18 lo è ok quindi sulla base di questo regolatevi e secondo me per darvi un riferimento potreste pensare se volete arrivare alla fine dell'esame con anche il punto 2 potreste darvi questa tempistica direi massimo un'ora e mezza per il punto 1 e poi avere almeno mezz'ora per il secondo punto secondo punto ripeto vi dà più libertà nel senso che andiamo a correggere proprio il codice e anche se dà delle eccezioni se non ranna se non dà il risultato corretto sicuramente se avete fatto qualcosa a qualche punto lo guadagnate sicuramente questo ok vediamo questo punto 2 che era un punto ricorsivo è un po' che forse non vediamo esercizi ricorsivi a partire dal grafo calcolato nel punto precedente vedete che il punto 2 si basa sempre sul grafo creato nel punto 1 si permetta all'utente di selezionare dalla tendina uno degli archi presenti nel grafo ok quindi anche qui avremo bisogno di un metodo che ci restituisca tutti gli archi prendiamo questi archi li mettiamo in classi di tipo adiacenza e andiamo a mettere questa lista di adiacenze nella tendina arco così che l'utente possa selezionare uno di questi archi alla pressione del bottone calcola percorso vogliamo calcolare e visualizzare che cosa un cammino aciclico semplice che inizi e termini nei due vertici selezionati e che tocchi il numero massimo di vertici allora ovviamente voi selezionate un arco e il nodo sorgente il nodo destinazione saranno ovviamente collegati da un arco diretto giusto ok noi non vogliamo quel cammino lì non vogliamo quel collegamento diretto ma ne vogliamo se esiste un altro che colleghi sempre sorgente destinazione ma che tocchi il maggior numero di altri vertici partendo dalla sorgente arrivando sempre alla destinazione è chiara la richiesta? quindi il cammino diretto sarà probabilmente il cammino minimo quello che vedrete nell'ora e mezza successiva cammino minimo però è troppo facile perché la libreria vi dà già il metodo per recuperarlo noi qui vogliamo il cammino massimo quello che tocchi il maggior numero di vertici e l'unico modo per farlo è attraverso un algoritmo ricorsivo ok va bene andiamo qui nel nostro modello è un problema di ottimizzazione vogliamo il cammino migliore migliore per noi vuol dire contenga il numero maggiore di vertici allora tra gli attributi del mio modello mi definisco la mia lista che conterrà il cammino migliore quindi list mi serve un percorso di vertici i vertici sono stringhe una lista di stringhe chiamiamola best poi ho bisogno di altre variabili per tenere traccia della soluzione migliore a volte c'è un peso migliore da associare alla lista in realtà qui il peso è la size della lista siamo interessati al percorso che tocchi il maggior numero di vertici quindi non usiamo il peso dell'arco usiamo la size della lista e quindi direi che con questa ce la caviamo va bene adesso vado sotto e provo a impostare la ricorsione vi ricordo vi rinfresco la memoria ricorsione di solito ci sono due metodi uno che prepara le cose e poi chiama il secondo metodo che è quello veramente ricorsivo il primo quello che prepara le cose e lancia la ricorsione il metodo pubblico l'altro può essere anche privato public che cosa ritornerà a questo metodo la lista di stringhe perfetto il percorso chiamiamolo calcola percorso riceve qualcosa dall'esterno abbiamo bisogno di parametri dell'utente per lanciare questa ricorsione beh almeno uno si l'arco selezionato giusto e quindi l'arco per noi è una diacenza a oppure se vogliamo spacchettare già la diacenza nel controller potremmo già ricevere sorgente destinazione fa lo stesso o riceviamo direttamente la diacenza e poi prendiamo sorgente destinazione oppure questo lo facciamo nel controller e nel metodo del modello riceviamo direttamente string sorgente string destinazione ok fa lo stesso allora cosa dobbiamo fare sicuramente la new della lista migliore perché altrimenti poi andiamo incontro ad eccezioni quindi dico che best è uguale new linked list ad esempio fa lo stesso e importo linked list poi di cosa abbiamo bisogno questa sarà quella che ritorneremo alla fine la migliore abbiamo bisogno di una lista con cui costruiamo passo passo la nostra soluzione la nostra lista che di solito chiamiamo parziale la definisco direttamente qui e poi la passerò come parametro al metodo ricorsivo list string parziale uguale new linked list ho bisogno di altro di fare altro dal punto di vista di preparare la ricorsione c'è una cosa che sappiamo già qual è non partiamo in un punto a caso ma il primo step sarà sicuramente la sorgente giusto e quindi io in parziale posso già mettere la sorgente perché so che quello sarà sicuramente il primo passo parziale punto add sorgente su questo non ci piove dopo aver aggiunto il primo step adesso sì che posso lanciare la ricorsione perché non so che percorso sceglierò per arrivare a destinazione avrò quindi un metodo cerca quello ricorsivo di che cosa avrà bisogno beh sicuramente di parziale gliela dobbiamo passare dobbiamo anche dire dove dobbiamo arrivare destinazione ci serve un livello boh dipende da che approccio usiamo per il momento mettiamolo e poi al massimo lo cancelliamo livello direi che facciamo partire da 1 perché abbiamo già messo il primo tassello quindi livello 0 lo abbiamo fissato noi perché lo conosciamo quando questo cerca finirà mi avrà riempito la soluzione migliore e io potrò ritornarla ok un punto due punti li abbiamo guadagnati facciamo facciamo adesso però il grosso del lavoro ovvero il nostro metodo che può essere privato void cerca che riceverà la lista parziale di stringhe la destinazione e il livello non so se lo useremo ripeto allora la cosa una delle cose fondamentali nell'algoritmo ricorsivo è identificare la condizione di terminazione altrimenti andiamo avanti all'infinito qui la possiamo esplicitare in modo formale direi di sì quando è che mi fermo quando arrivo a destinazione giusto secondo me qui il modo più semplice è prendere l'ultimo elemento che ho inserito al giro prima in parziale e vedere se è uguale a destinazione non continuerò più l'unica cosa che farò sarà andare a vedere se la soluzione finale perché sono arrivato a destinazione è migliore di tutte quelle che ho visto fino a questo momento se questo è il caso sovrascrivo la soluzione migliore quindi dico if l'ultimo elemento inserito in parziale al giro precedente sarà parziale punto get facciamo un accesso posizionale parziale punto size meno uno questo è l'ultimo elemento presente in parziale se questo è equals alla mia destinazione vuol dire che sono arrivato a termine qui mi viene in mente faccio un accesso posizionale e ho usato una linked list non è una scelta furbissima ma non importa non stiamo lì a guardare queste cose ok se sono arrivato a destinazione controllo è la soluzione migliore beh vado a vederne la size quindi se la size di parziale è maggiore della size della soluzione migliore vuol dire che devo sovrascriverla che parziale diventa la mia soluzione migliore quindi if parziale punto size maggiore di best punto size sovrascrivo la mia best la sovrascrivo facendone una new ok questo è importante new linked list di parziale non ho da aggiornare altro perché appunto ci basiamo unicamente sulla size che sia la soluzione migliore o no è inutile andare avanti perché sono arrivato a destinazione è inutile continuare il percorso e quindi return esco dalla ricorsione ci sono altre condizioni di terminazione non mi sembra anche perché se ci pensiamo bene sorgente e destinazione saranno sicuramente collegate quindi se mai non ci si se mai non ci fosse scusate un percorso più lungo che passi all'esterno del grafo e beh la soluzione migliore sarà l'arco diretto ok quindi direi che non ci sono altre condizioni di terminazione facciamo il passo ricorsivo allora in parziale supponiamo di essere al primo giro abbiamo già la sorgente che cosa possiamo fare sì ok esploriamo i percorsi che vanno verso tutti gli adiacenti all'ultimo inserito che nel primo giro sarà la sorgente e poi cambierà ok quindi proviamo entrambe le strade proviamo andare verso il primo adiacente e facciamo andare la ricorsione facendo backtracking questa ricorsione tornerà indietro e esplorerà anche il percorso verso il secondo adiacente e così via quindi scorro i vicini dell'ultimo inserito e provo le varie tra virgolette strade allora l'ultimo inserito sappiamo come recuperarlo l'abbiamo già recuperato qui come facciamo a recuperare i vicini di un nodo in un grafo non so se insieme forse non l'abbiamo mai visto magari avete visto in altri esercizi allora saranno dei vicini quindi quello che scorro nel ciclo for saranno sempre delle string giusto string che ne so v dato un nodo recuperarsi vicini questo torna spesso c'è un metodo molto utile della classe graphs poi ci sono anche altre modalità ma questa secondo me è la più comoda ripeto non so se l'avete mai vista graphs punto neighbor list of neighbor list of a cui specifichiamo il grafo ovviamente e il nodo di cui vogliamo recuperare i vicini che è l'ultimo inserito in parziale parziale punto get parziale punto size meno uno l'avevate già visto questo neighbor list of ok bene e vabbè e qui è abbastanza semplice per ogni vicino lo aggiungo in parziale lancio la ricorsione faccio backtracking qui non ci sono filtri da controllare perché per me vanno bene tutti i percorsi e tutti gli archi possibili quindi dico parziale punto add v lancio la ricorsione dicendo cerca parziale destinazione mi accorgo ora che il livello non lo stiamo utilizzando e quindi direi che lo possiamo cancellare dai nostri parametri sia qua che sopra e basta quindi lancio la ricorsione parziale destinazione e poi faccio backtracking parziale punto remove l'ultimo inserito quindi di nuovo parziale punto size meno uno domande sulla ricorsione sì bravissimo mi sono dimenticato completamente di questa cosa il testo ci chiede esplicitamente un cammino aciclico in cui non ci siano cicli d'accordo me ne sarei accorto probabilmente lanciando il programma perché sarei andato incontro a una ricorsione infinita che torna sempre su se stessa quindi non vogliamo ovviamente cicli come facciamo ad evitarli scusami esatto con una contents imparziale quindi aggiungiamo il vertice solo se parziale non lo contiene già ok quindi if not parziale punto contents xv se non lo contiene ancora allora lo posso aggiungere e se lo aggiungo poi lancio la ricorsione e faccio backtracking se lo contiene già non lo aggiungo più perché altrimenti vado incontro ad un ciclo altre domande allora ora non mi metto a connettere tutto il controller lo farò prima di fare push vi faccio solo una panoramica di quello che bisognerebbe fare sicuramente appena parte il programma abbiamo bisogno di una query ulteriore per riempire la prima tendina l'utente deve poter selezionare una categoria di reato e ovviamente queste categorie le devo andare a prendere dal database e quindi mi serve un'altra query query però molto semplice che è questa è la colonna offense category d select distinct offense category d from events quella è la nostra query recuperiamo una lista di stringhe e le andiamo a inserire nella tendina per i mesi i mesi ci dice mesi estratti da reported date è vero potremmo estrarre tutti i mesi dalle date presenti nel database magari per qualche strano motivo un mese non c'è detto questo in questi casi secondo me fregatevene e fate la cosa più semplice possibile i mesi vanno da 1 a 12 aggiungo i numeri da 1 a 12 senza dover fare una query in più ok? ok mentre le categorie ovviamente non le conosciamo dobbiamo per forza andarle a prendere dal database d'accordo? quindi questo prima appena parte il programma direi subito dopo la set model all'interno della set model anzi dopo aver impostato il modello riempio queste due tendine e poi c'è poi anche l'altra tendina arco che andrà riempita quando? dopo aver creato il grafo quella non possiamo riempirla subito ma a questo punto nel metodo crea grafo qui adesso lì in quel punto lì to do riempire la tendina degli archi quindi queste sono le tre cose da fare ancora per collegare il tutto al controller il controllo dell'input è molto semplice perché sono tutte tendine e quindi l'unico controllo da fare è che l'utente abbia selezionato il campo e quindi dire combo box categoria diverso da null d'accordo? lo farò appena arrivo in ufficio e così potrete poi darci un'occhiata direi che possiamo fare la pausa adesso così poi iniziate col professor corno la parte sui cammini minimi grazie